Benvenuti all'italiano ed intorni. Oggi scopriamo perché si dice fare fiasco. L'espressione fare fiasco significa ovviamente avere un insuccesso e pare che abbia due origini. La prima è quella dei soffiatori di vetro quando in una produzione al posto di fare un oggetto che era ben definito veniva fuori praticamente uno un po' strano simile ad un fiasco per cui era un insuccesso appunto. La seconda invece dobbiamo tornare un po' di tempo fa ad un teatro fiorentino quando era solito presentarsi per dei monologhi piuttosto simpatici un artista che portava in scena un oggetto con il quale parlava durante i suoi monologhi. Una sera decise di portare con lui un fiasco di vino e al posto di far ridere il pubblico lo annoiò così tanto che in cambio ricevette un sacco di fischi e di insulti. Ecco quindi fare fiasco significa disilludere non diciamo dare quello che le persone si aspettano e questo è insomma il significato e l'origine. Alla prossima. Alla prossima.